Buongiorno a tutti, lunedì 3 luglio, purtroppo a causa della festività nazionale il famoso 4 luglio, festa di indipendenza degli Stati Uniti che si celebrerà ovviamente domani, oggi avremo una giornata a orario ridotto sul mercato statunitense perché chiuderà alle ore 19 italiane, domani il mercato americano sarà chiuso l'intera giornata, quindi temo che ci aspettino due sedute interlocutori ed è un vero peccato dopo quello che è accaduto venerdì con questa importantissima rottura dei massimi di periodo da parte del nostro Fuzzimib che è tornato su livelli che non vedeva dal 2008, però abbiamo ugualmente diversi argomenti di cui occuparci, vi condivido subito lo schermo e ovviamente partiremo dai futures perché bene o male abbiamo già esaminato in maniera approfondita durante il weekend tutto quello che riguarda l'andamento dei principali indici mondiali, vediamo che per il momento DAO più 003, Standard & Poor's 500 più 002, Natak 100 più 017, Russell 2000 meno 023, DAX più 014, Eurostox più 018, Benel Nikkei più 097, Topix più 1,42, Hang Seng più 1,38, Singapore più 0,26, Cospi più 1,40. Calendario macroeconomico, sono usciti dei dati macro in Giappone, questo indice Tancan dei grandi produttori manufatturieri che è risultato migliore e anche quello delle grandi aziende non manufatturiere, oggi tra l'altro per quel che può contare è chiusa anche la borsa canadese, se proseguiamo vediamo il PMI Caixin per i mesi di giugno previsto a 50,2 che è uscito a 50,5, abbiamo per esempio l'inflazione in Svizzera che rispetto all'area Euro è veramente bere un bicchier d'acqua perché se pensiamo che è prevista l'1,8 dal 2,2 e in Europa fino a poche settimane fa lottavamo per non andare sopra il 10, adesso è un po' rientrata, però insomma situazione ben diversa. Poi ci sono molti direttori degli acquisti, spagnoli, tedeschi che è quello ritenuto più importante, 9,55 previsto a 41, quello UK previsto a 46,2 e nonostante oggi il mercato americano chiuda piuttosto presto, c'è un dato importante che è l'indice ISM dei direttori dell'acquisto del settore manifatturiero per i mesi di giugno che esce alle 16, previsto a 47,2. Oggi ci sono anche alcuni dividendi, vedete Erika, MutiOnline, Leone, Procibensat che peraltro è MTA International e Zucchi, ovviamente dobbiamo fare molta attenzione perché io di questi titoli lavoro solo Zucchi in questo momento e talvolta Erika, però teniamone conto. Veniamo alle notizie price sensitive e dobbiamo cominciare da Salvatore Ferragamo che tra l'altro venerdì ha dato un primo segnale interessante perché innanzitutto non è stato perso il minimo del 24 di maggio 14,59, ha fatto 14,62 in quella seduta e adesso sembra finalmente pronta Ferragamo a rimbalzare con un primo target a 15,34 e poi questo obiettivo del massimo della doge del 16 giugno 15,70 per un movimento che si completerà all'incrocio delle medie mobili a 100 e a 200, poco sopra 16,34. La notizia che il CFO Alessandro Corsi ha rassegnato le emissioni e il suo rapporto di lavoro cesserà il 30 di settembre. Trasferiamoci poi a risanamento, ora le notizie price sensitive possono essere dei market mover sui titoli interessati, in questo caso però bisogna capire per esempio perché la notizia del suo risanamento è che è stato perfezionato il closing dell'operazione per l'accessione dell'area Santa Giulia Milano al Fondo Comune di Investimento gestito dall'MDIS per 648 milioni di euro quanto in effetti fosse già attesa questa notizia per cui noi adesso facciamo un'analisi ovviamente delle potenzialità soprattutto realsiste vedendo questo grafico del titolo però diciamo che non credo sia una sorpresa perché è da mesi che si parla di land lease. Comunque graficamente il titolo può tornare fino a poco sopra area 0,10, poi abbiamo una media mobile a 100 0,1067 e la spinning top, il massimo della spinning top del primo giugno 0,1108. Speriamo che non sia la più classica delle sell on news. Iveco, l'abbiamo già analizzata in maniera piuttosto approfondita nel weekend, è in una situazione sicuramente molto positiva, ci sono spazi fino in area 8,50 se non fino a questo massimo del 4 di aprile 8,658. Ha finalizzato la piena e esclusiva acquisizione a proprietà dell'ex joint venture Nicola Iveco Europe che ora assumerà la denominazione di EVCO. Credo che anche questa notizia fosse piuttosto scontata per cui non mi aspetto variazioni clamore rispetto a quanto vi ho detto. Juventus, in questo caso c'è una notizia per un'acquisizione di Timothy Weah che dovrebbe essere il figlio di George, credo, poi magari confermatemelo nei commenti, il calcio anni 80, anni 90, lo seguo ancora adesso, non lo seguo assolutamente più. Ha firmato l'accordo con il Lille per l'acquisto del calciatore Timothy Weah per 10,3 milioni di euro pagabili in due esercizi più oneri e accessori per massimo un milione. L'accordo prevede inoltre premi fino a 2,1 milioni a verificarsi i determinati obiettivi sportivi o condizioni. Weah ha sottoscritto con Juventus un contratto fino al 30 giugno 2028 a giungere il club. Non credo con tutto rispetto per questo figlio d'arte che sembra ricalcare peraltro le orme del padre che, se non ricordo male, arrivò anche peraltro a vincere il pallone d'oro. Intendo dire che la situazione di Juventus è molto complessa e ormai dovremmo saperla. Di buono c'è che nella seduta di mercoledì con il minimo a 0,32,6 ha comunque disegnato una spin di top per cui ha chiuso sopra il supporto di area 0,33. Quindi questa fase di recupero può proseguire fino, direi, in area 0,36. Concludiamo con Esprinet perché è in una situazione sicuramente limite. Io, come vi ho già detto in altri video, se ho omesso di dirvelo, mi scuso con voi, ma come sapete io sono molto trasparente e ho Esprinet in portafoglio. Tra l'altro, pur non aspettandomi dei dati troppo positivi da parte del titolo, ho provato ugualmente ad acquistarlo perché considero che possa effettuare un rimbalzo significativo fino anche a 6,15, 6,25. Qui è un micro gap da chiudere sul minimo del 23 di maggio a 6,28. È ovvio che adesso se dovesse accelerare al ribasso io chiuderò comunque il titolo. Chi volesse provarlo dovrebbe darsi uno stop sotto 5,09, che è il minimo sul time frame settimanale della seconda settimana di settembre del 2020. Io mi chiuderò anche prima, dico la verità. Guarda, Germania, Francia, Benelux e Gran Bretagna per eventuali opportunità di crescita esterna attraverso acquisizioni secondo il sole 24 ore di domenica. Ora, le acquisizioni sono sempre un'arma a doppio taglio, soprattutto nell'ultimo periodo abbiamo visto come indipendentemente poi dall'andamento in borsa, mi sto limitando a considerazioni di analisi fondamentale, come una GWS che ha speso molto in acquisizioni e non ha pagato. Tinexta stessa comunque non ha avuto dei riscontri così positivi, ma tante altre società. Quindi monitoriamo il titolo, è sicuramente in caso di rottura di questa line ribassista, partita dei massimi 16 di maggio, un grafico esplosivo. Però, ripeto, io sto però molto molto stretto, dovesse già andare sotto 5,50, 5,48. Ecco, il livello probabilmente io chiuderò già il titolo. Per questa mattina ho concluso, noi ci sentiamo dopo la chiusura del mercato diurno, alle 18 troverete caricato in automatico, molti pensano che sia uno stacanovista, però YouTube ha il vantaggio che puoi registrare e programmare quando pubblicare. Quindi c'è il podcast Nest Economy con Manuela Donghi, che ho fatto venerdì, ma non volevo caricare di troppi contenuti il canale durante il weekend. E ovviamente dopo la chiusura del mercato diurno ci sarà il video di ripiego serale. E come mio solito, per questa mattina, seppur non mi aspetto grossi movimenti dal mercato, auguro a tutti buon trading. Grazie a tutti.